Ancora un lutto nel mondo della cultura, è morto a Roma Luciano De Crescenzo, ingegnere filosofo, scrittore e regista, maestro di ironia, aveva 90 anni, lutto cittadino a Napoli, nel giorno dei funerali, domani la camera ardente al Campidoglio, al Tg1, il ricordo di due amici cari, Renzo Arbore e Marisa Laurito. Virginia Volpe. La verità è che io non sono uno storico della filosofia, non sono un filosofo, io sono un raccontatore. Quando ero piccolo non era la baria che raccontava le fiabbi a me, ero io che le raccontavo alla baria. La filosofia è l'ironia, la cultura, la passione di un uomo di scienza con l'anima umanista. Così parlò Luciano De Crescenzo, ingegnere, diventato scrittore, regista e conduttore televisivo. Non credo tanto nel destino quando credo nel caso e quindi credo nella fortuna. La sua Napoli sempre nel cuore, una carriera da dirigente alla IBM prima di seguire la sua vera passione, la scrittura. Così parlò a bella vista nel 77, un caso letterario e poi un film. La verità è signore che il vero bisogno dell'uomo di oggi è questo di buttare e comprare, buttare e comprare. È protagonista anche in tv, ha raccontato filosofia e mitologia greca a generazioni di italiani. Il ricordo dell'amica Marisa Laurito. Mi ha accompagnato tanti anni della mia vita, abbiamo passato tanti Natali insieme, un amico che non ha mai tradito, un uomo di grande cultura che mi ha regalato gioia, ironia, voglia di vivere. De Crescenzo lascia una grande eredità fatta di oltre 50 libri, milioni di copie vendute nel mondo, tra narrativa e saggistica, la cultura partenopea e la magna grecia. Diceva Protagora di Abbatera, l'uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. Signore, poche bicarbonato. Sono tanti, tanti, tanti ricordi, 50 anni di amicizia, quindi l'amicizia è di lavoro insieme, quindi abbiamo fatto imprese di tutti i tipi, tutte all'insegna del sorriso, tutte sorridenti. Quindi i ricordi sono tanti, da quando lui litigava col computer, perché è stato da ingegnere il primo a cimentarsi con il computer, fino alle ultime cose. Poi fino alla passione che aveva per le canzoni napoletane che lo commuovevano quando erano tristi e lo rallegravano quando erano allegre, come succede a quelli che amano questa musica, le canzoni napoletane classiche. Dentro, come sto rileggendo io, le sue opere c'è moltissimo da imparare e poi c'è un'immagine di Napoli che è quella che noi prediligevamo, la Napoli sì, la Napoli della cultura, la Napoli grande capitale.